Che begli occhi scuri, come quelli di un ebrea. A Berlino non ci sono più ebrei. Ma che stai facendo? Sei impazzito? Io voglio rimanere qui. Voglio vivere. Lui dov'è? Poche persone sono in grado di tacere quando qualcuno mette le loro dita nello spiraglio della porta. Ma non ho detto niente. E allora perché il macellaio mi ha chiesto se teniamo nascosto un giovane ebreo? Mamma ha detto di aver sentito che Stella lavora per la Gestapo. Helen! Forse lo hanno preso. Qui si tratta di vita o di morte. Mamma, di quale zio e figlio, Eugen?